una passeggiata in centro con la bella fidanzata a rimirare il duomo di milano e poi una tappa alla caffetteria più chic della città nel ristorante di carlo cracco in galleria per una veloce merenda e se ci scappa un bacio con la suddetta fidanzata che cosa c'è di strano sembra il pomeriggio di un uomo qualunque che si gode le comodità della vita quando però l'uomo in questione è silvio berlusconi ovvero colui che ha tenuto tra le mani il destino del paese per quasi 20 anni allora la cosa diventa un affare nazionale in grado di attirare l'attenzione non solo di tutti i passanti ma anche di ogni organo di stampa c'è da dire che silvio berlusconi e la fidanzata marta fascina lui 85 anni lei 32 insieme da due anni non hanno proprio fatto niente per mimetizzarsi anzi quando sono entrati nel caffè del ristorante di cracco si sono seduti nel deor che affaccia direttamente sul passaggio di galleria vittorio emanuele secondo diventando in brevissimo tempo il bersaglio dei cellulari dei passanti che si sono assiepati di fronte alle eleganti vetrine i due fidanzati hanno comunque continuato a gustarsi la merenda spremuta ai pasticcini e si sono lasciati andare a qualche effusione marta con impeto giovanile ha accarezzato il viso dell'amato silvio e poi si è avvicinata per dargli un bacio sulle labbra prima di lasciare il tavolo l'ex premier è stato raggiunto da carlo cracco per un breve saluto solo pochi giorni fa silvio berlusconi aveva smentito la notizia di possibili nozze con la compagna affidandosi a un comunicato ufficiale il rapporto di amore di stima e di rispetto che mi lega alla signora marta fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio ha scritto berlusconi aggiungendo ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante assieme a marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari insomma pare proprio che nelle prossime settimane ci sarà un party di non matrimonio chi si occuperà del catering forse lo stesso cracco staremo a vedere a